La nocerina si muove, sono almeno tre le pedine da agguantare mettendo al bando ogni possibile sbaglio per riportare i molossi in corsa per la promozione diretta. La vittoria con il Sorrento ha infatti rilanciato le quotazioni dei rossoneri di mister Auteri che però dovranno essere rinforzati a dovere dalla società per competere con un Avellino che zitto, zitto sta cercando di prendere il largo. Un difensore, un centrocampista di qualità, una punta, queste le priorità del direttore sportivo Marcello Pitino. Quest'ultimo potrebbe tuffarsi anche su un portiere, ove mai Aldegani continuasse a non reagire a qualche strafalcione commesso che ha fatto perdere punti preziosi in classifica. Il difensore esterno sinistro, visto che Rizza è appena tornato, che Sabatino non rientra nei piani del tecnico e che Chiose e Garufo si sono adattati in quel ruolo, dovrebbe arrivare a completare il pacchetto arretrato. Il centrocampista serve perché bisogna affiancare a Bruno un giocatore di pari livello, alla luce dell'alta allenante rendimento di De Liguori. In avanti, se come sembra andranno via Merino e Gavilan con Speziale e Tulinieri da mandare a giocare, servirà un'altra pedina. Da non dimenticare poi che servirà una punta esterna perché Schetter non è più lui e Negro è spesso infortunato. Erpen della Juve Stabia è il sogno neanche tanto nascosto. Domani i rossoneri torneranno ad allenarsi. Ripresa invece è fissata già per oggi per la Paganese. Gli azzurro stellati di Grassadonia dovranno dimenticare in fretta la battuta d'arresto di Perugia che ha lasciato qualche strascico. Il tecnico salernitano in questi giorni incontrerà il presidente Trapani e il direttore generale Deboli. Bisognerà fare il punto della situazione sulle mosse di mercato da mettere in pratica già ad inizio gennaio, così da non arrivare al termine della sessione invernale delle contrattazioni con affari ancora da concludere. In uscita almeno quattro giocatori in entrata, forse altrettanti. È necessario capire se intervenire per il ruolo di portiere. Serve un difensore centrale importante perché quando mangano Fernandez e Fusco si va oggettivamente in difficoltà. Il reparto di mezzo sembra quello più fornito e va anzi smaltito. In avanti potrebbe arrivare una punta se Orlando come pare andrà via. Questione Babu. Il brasiliano continuerà ad allenarsi con gli azzurri. Ad inizio gennaio saranno sciolte le riserve sul suo conto.